Oggi ragazzi sarebbe il Tax Day, il giorno delle tasse Nonostante sono passati solo due mesi da lockdown, nonostante tre mesi di lockdown Oggi ci chiedono le tasse, ci chiedono di pagare tutto quello che dobbiamo pagare Nonostante è evidente che la liquidità non è tornata nelle nostre tasche E che quindi sia estremamente difficile, se non impossibile, pagare le tasse Per questo penso che il nostro governo ci ha letteralmente abbandonati Io parlo di noi, partite IVA, di chi ha una società, imprenditori eccetera Perché tendenzialmente è questa la verità, non è solo un settore Si sta scatenando un po' anche questa guerra dei poveri Io conosco un sacco di partite IVA anche sui giornali, su Facebook Leggo persone che si schierano da una parte piuttosto che dall'altra Dipendenti contro imprenditori o lavoratori autonomi contro dipendenti pubblici Ma il problema è che siamo tutti della stessa famiglia Siamo tutti sulla stessa barca e soprattutto siamo tutti parte di un grande paese Che è l'Italia, che però è un paese veramente in difficoltà Questo non è un video polemico, non voglio fare un video distruttivo Anzi voglio cercare di trovare una motivazione di positività, di ispirazione anche da questo video Il problema qual è? Che non hanno rimandato le tasse Si pensava che l'avrebbero spostata il 30 settembre Invece oggi bisogna pagare tutto O comunque almeno le prime rate che sono molto alte sicuramente Per chi si è trovato a dover affrontare 5 mesi di crisi e non è ancora finita Soprattutto ora siamo nel periodo estivo, quindi immaginatevi quante professioni nel periodo estivo sono frizzate Soprattutto in un post lockdown con una situazione ancora molto preoccupante nel resto del mondo Insomma una situazione così sembra tutto a posto, tutto normale La cosa che fa un po' ridere è che l'anno scorso le tasse le avevano spostate a fine settembre per motivazioni tecniche Mentre quest'anno che ci sarebbe una motivazione molto importante non lo fanno Ecco, essere imprenditore in Italia secondo me è qualcosa di, non lo so, oltre Cioè bisogna proprio essere, non lo so, folli Io non lo so per quanto tempo sinceramente terrò aperta la mia partita di va qua in questo paese Sto veramente pensando a tante alternative Però quello che voglio dire è lasciate like e iscrivetevi al canale Dopo che ho pianto 5 minuti Dopo che ho letto la notizia E non ci devono essere scontri secondo me tra parti sociali Ma bisogna cercare di venersi incontro e aiutarsi Perché ragazzi la situazione è assurda E se il governo ci abbandona cittadini perché siamo cittadini Allora se il governo abbandona i propri cittadini Qualcosa non funziona Vi faccio vedere questo libro Storie impossibili Libro di Roberto Ocere Ocere, non so come si legge Sono 50 storie a bomba, tutte qua dentro Impossibili Di persone che hanno superato delle situazioni allucinanti E sono riuscite a trasformarle in qualcosa di positivo per la loro vita E per il loro successo Non solo successo economico, lavorativo, eccetera Ma proprio successo di vita personale Per raggiungere la felicità Ci sono storie del calibro di Stephen Hawking Lo conosciamo tutti Lo scienziato che ha il cosciente intellettivo Pare a quello di Einstein Ma tetraplegico che aveva due anni di vita Detta di tutti i medici E invece ha vissuto molto di più E ancora adesso è tra noi E continua a fare ricerche scoperte Emozionanti Parliamo di Simona Azzechi Una ballerina, una scrittrice Un'artista Una pittrice Però vive senza le braccia E ce ne sono tante altre ragazzi Persone che hanno ricevuto porti in faccia per anni Fino a che non sono riuscite a coronare il proprio sogno Ecco, penso che sia questo lo spirito Che noi tutti dobbiamo avere Questa è la mentalità che dobbiamo avere ragazzi Parlo per esempio di questo signore qui Un signore che Corre nel maratone Le ultra maratone Con un frigorifero sulla schiena E raccoglie fondi da decenni Per combattere il cancro Se non lo sa lui Come si superano i momenti di difficoltà Chi lo sa Parlo di Leonardo del Vecchio C'è anche la sua storia Io sono la prova che è possibile fare soldi in Italia Ad essere onesti La sua citazione Io non so Se è ancora possibile effettivamente fare soldi in Italia Ha visto Quello che sta accadendo Però forse sì E sicuramente lui è una grande Dimostrazione di come il genio italiano Riesce in qualche modo a Sfondare Ci sono Tante, tante storie 50 Sono una dietro l'altra Una bomba dietro l'altra E veramente Bisogna leggerlo più volte secondo me Per assaporare tutti I contenuti di questo grande libro E' un libro motivazionale Non ci sono tecniche Cose particolari Dientro E' un libro che si può scorrere Facilmente E costa una ventina di euro Però Ci fa bene Secondo me Vedere persone che hanno superato Situazioni che per noi sono inimmaginabili Ho letto la storia Di una ragazza Che è vissuta Che è nata Nella povertà totale I genitori erano Addicted Dipendenti dalla droga Ha visto la madre morire Di overdose Di cocaina E a un certo punto Lei aveva 5 dollari in tasca Doveva decidere se Usarli per mangiare O se Prendere un autobus Per andare a fare questo colloquio L'ennesimo colloquio All'università Dove aveva mandato il curriculum Per fare richiesta di iscrizione E decise di prendere questo bus E da lì La sua vita è cambiata Perché poi l'hanno presa Ha vinto una borsa di studio Ed è andata ad Harvard Che è una Delle università più famose del mondo E più Ovviamente Celebri anche Del mondo Parliamo di storie Incredibili Di persone che hanno affrontato Cose che noi Non Probabilmente non tutti Possono Riuscire a superare E se loro Non hanno trovato la scusa Per mollare Perché Dovremmo farla noi Quindi questo video È per voi Che dire ragazzi Fa un caldo incredibile Ci vediamo al prossimo video Grazie di avermi seguito E Fatemi sapere anche voi Se Avete già una partita IVA L'avete aperta L'avete aperta all'estero Se l'avete chiusa Sono curioso Voglio sentire un po' Di vostre storie Lasciate like E commentate qui sotto E iscrivetevi Al canale Grazie di aver guardato Ciao